Sì, c'è Samu? Mi sa che gli è successo qualcosa di brutto, lo sto chiamando Mi si sono ruppi gli ericolari Ma... Ci si fa o non ci si fa? Allora, bucaioli Ciao, belli Non siamo da soli oggi No, oggi non siamo da soli Siamo con Gabgioli, signori Gabgioli Trovate il suo canale in descrizione Fateci un salto, mi raccomando Esatto, fateci un salto È un proprio player di brutto Che si fa oggi, Lore? Che si fa? Che si fa? Sono sega Proviamo a giocare Una specie di challenge E si prova a vincere Un botte di trofei Come si fa? Come si fa? Come si fa? No, è un botte di trofei Ma è un botte di trofei Per push, però Padellato Arrivalo Fa schifo E' una rosa base Che c'è anche a me Ammazzato Vai, vai Proverò a prendere Puscia che ecco Puscia Eh, due due Però me l'ha culpata I signorini Oh, morte, 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 signori Bella per Gabgioli Madonna, Gabgioli Vai, tutti morti, stiantati No, no Gigi Gigi E' la prima E' andata, signori E' andata E' andata E' andata Ve la passo dall'altro lato Ora, eh Lo riesci a difendere? Bella Vai, prendi Vai, io li aspetto qua Tieni Vai Shell C'è solo Sandy Dai, questa qua si può fare Nooo Ho sbagliato di un millimetro Facciamola passare No, non ci voglio credere Il coro carico Purtroppo non abbiamo Non abbiamo nessuno Che rompe le mura Nooo Esatto Spike che a me e me Shot veramente pare Fra a me e me non si dice Ma ti sembra il momento Di parlare di Dramatica Mi sembra il momento E' la E' la E' la Addirittura Con il colline in culo Addirittura No, volevo Fai furbi e fare il trio Di leggendari, no Giustamente Bella Che è qua? Ci sono urla Dall'altra parte del condominio Però d'altronde Sono sul balcone Da questa pausa pubblicitaria Possiamo continuare Ok Vediamo Ci l'abbiamo fatta Mamma mia Oh bello Ems Con Mortis ci vuoi A nozze Oh ma che Inghietreggio Mortis No se li vanno in viso non gli fa danno No ma qui bo Quel bo da ha fastidio Stiamo separati Ehm Io non ho vita Eh Siamo rimani dietro Ma sburrava Sì poi Ehm Accidenta Ehm No fra Ehm 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 Ci hanno un po' Un po' rotto Non l'ho ammazzato Vai 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 Lo ammazzai tutti Lo ammazzai tutti Lo ammazzai Bravolo Beh però sono ancora in vantaggio Ragazzi Eh Vabbè ci riproviamo Niente è possibile Dai Aspetta Forse io ho sbagliato Perché stavano Che ulti brutta Che ulti brutta Non Non tagliala Non schiaccia tigli libero nell'altro no qualcuno che fa una chiamata nulla ho ammazzato boh ma non è basta stare in questo modo senza trover allora per esempio trover non ce l'avevano l'unica cosa che io stecca non lo so usare un troppo bene cioè non sono uno specialista di stecca un piper se rompe se rompe muri è un disastro lui è una valita guana però non so vera anni e mezzo del centro morta ma la linea no siamo pieni piedi ma è rispondono gli altri ma cc ultima c non avete visto niente no non ho capito la perla per il mondo per la per morti e io qua mi dimentico di indiretti avesse appena traste indietro ii come volo nulla come siamo in montagna del mare 100.000 di piazza ci ho trovato meravigliore se ne vediamo dc perchè ha usato i gadget a 7 siamo deve rimanere vivo a c'è la star power dei cespugli siamo usati su di lei mamma mia spingiamo da oggi dai attento 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 che culo no nita fra metti nita 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 scandalosa con la combo che c'ho ah bella con 3000 titano bravo stamo un con una mia volta che poi ho avuto un po' di danni però non l'ho mandato aspetta eh oh quella sorretta vai 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 a noi o io o io o io o io credo non ci 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 credo buttalo dentro gg ho trovato un tracca come mi voglio vergogna qui ma come eric c'è mi è rubato il gol scherzo aria aria oi 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 oio è bravo col Scroll lubilla ma anche se quel foie portropol posso poi sono tutti molti che spazio è la tempo qui Hos lo spazzo alla tardana forse un po ahahah simpatia 2 milioni no no ci crede quelli problema ok ragazzi molti sono morti, spazzola, spazzola, spazzola spazzano noi mi pare da avere la pallamana si dirige vero ma non ce l'avevo no ok non ci vuoi crede dai buttatela dentro no franno me lo vedo raga però dai devi entrare in una porta non ci sto credo l'auto aim è un capitolo tutto da chiudere è sì visto ragazzo sì dai dai purtroppo nelle prossime partite se vedrete io non avrò più l'audio perché giustamente gli auricolari hanno fatto un po' tutto a modo loro però sentirete quello di Gabgioli e di El ora naccheri si va di Gen Grabbe no eh ma come ma c'è anche Penny ora si sono tutti morti ora si sono tutti morti e la usa sono morti no ma non qui in su no ma l'ho grabato molto grazie pocio dacci un po' di cura bravo cura 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 vai dietreggiate dietreggiate cura 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 c'è il grab c'è il grab facciamone prendere sulla sedia eh guardata ma anche però quanto c'è se lo riesco allevare da vai ci sono un viso toccamelo vai oh sul tutto no ma guarda tanta pisano attento 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 ti copro se l'ho cura 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 aspetta ora puro eh si ma aspetti un momento giusto per curare oh perchè eravamo tutti buoni quando mi hai detto voi eravate full ero solo io easy via ragazzi si fa l'ultima e e e poi si fa remestagliene io qui c'ho derri attenti 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 che cura attento perchè c'ha la ulti ma che perchè hai il lato dai 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 vai siamo ho sperato la cura per te pusha gecko pusha le rip f mega f drop df è crashato allora vai non si sperano aspetta 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 scusa se mi fa se mi fa vedere la sua skin bella allora anche io fa vedere la mia skin bella e allora anch'io eh 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 andate a oh come è raggiunta la dimensione massima del file comunque 200 like si denafia 200 like infatti 200 account eh passa sul canale ah a 500.000 mi piace ragazzi non riesco investo investo 500.000 like ma se in questo video dovesse raggiungere i 20 like signori no no io no io lo fa samuele io vado in chiesa comunque è stato molto molto divertente sì sì a parte qualche partita che non è andata speriamo che la gente appena sente il volume dell'outro stacchi i video guarda parlando dell'outro eccola qua a 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 Che loro giustamente non vedranno Stiamo parlando tra di noi Questo non lo metti nel video Chi ce lo dice? Magari è appena finita l'altro